e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi vi parlerò di un'applicazione che penso di usare per capo nord vi ricordo di ragazzi di iscrivervi al canale e di seguire il video fino alla fine perché vi vorrei chiedere una cosa comunque adesso mi trasferisco al pc per farvi vedere questa applicazione e ci vediamo dopo eccoci qua ragazzi nell'applicazione di cui vi volevo parlare questa è la versione da pc c'è la versione anche su android non so se c'è anche su ios se ragazzi avete il sistema ios ditemi qua nei commenti se trovate questa applicazione e niente è un'applicazione che viene utilizzata principalmente da chi viaggia in camper ma ci sono posti in cui sicuramente si può piazzare anche la tenda io questa applicazione la userò principalmente nei paesi scandinavi dove il campeggio libero è legale mentre ad esempio in germania e via dicendo andrò sicuramente in albergo quindi niente adesso andrò a farvi vedere un po l'applicazione che è qua su pc è un po diversa però le funzioni sono più o meno quelle allora qua andiamo su visualizza mappa e vedete che vi compare la mappa diciamo del mondo intero andiamo un po sul punto che ci interessa se si vuole fare una cosa fatta velocemente da cellulare se avete la geolocalizzazione attiva andate a fare intorno a me e vi compaiono in automatico i posti oppure potete siete fermi in un posto andate sul sul posto che vi interessa come non so come arrivo e fate cerca in questa posizione vedete che vi compaiono un po di icone potete andare a filtrare le icone nei posti che magari vi servono interessano di più io lascerei ad esempio cioè cancellerei tutte le aree camper ok e andrei magari a tenere tipo aria picnic in mezzo la natura che sono posti in mezzo alla canna natura i campeggi che molte volte sono anche a pagamento però magari se si vuole qualche servizio in più anche se ho visto che comunque in molte aree ci sono anche i servizi igienici ad esempio quindi andiamo applicare i filtri vedete che l'applicazione va applicare proprio i filtri che abbiamo chiesto quindi andiamo a vedere cliccare sull'icona e qua vabbè non ci viene vedere il luogo però non ci sono foto quindi andiamo a cercare una cosa col fuoco le foto ecco qua vedete che ci sono comunque i prezzi prezzo del parcheggio prezzo dei servizi quindi qua ci è a pagamento ad esempio e ci sono le immagini di questo qua sembra comunque un campeggio ok andiamo magari a vedere un posto in in mezzo alla natura con qualche foto in più magari come vediamo questo cinque foto ecco vedete qua c'è anche è un po attrezzato magari per i barbecue ed è comunque in mezzo alla natura vedete penso sia un posto ideale per fare i campeggi per campeggiare per piazzare la foto per piazzare una tenda ma vedete ce ne sono davvero tanti e si può andare in una zona a cercare quel che più magari vi interessa vi possa piacere vedete qua addirittura c'è una casetta ci sono questi sono servizi igienici vedete ci sono delle delle piazzole molto molto belle gratuite perché ad esempio questa questa non c'è prezzo quindi vuol dire che è gratuita zero commenti però intendiamo vederne un'altra sto cercando tutti quelle in mezzo alla natura vedete vedete qua c'è dovrebbe essere un servizio igienico una spiaggia c'è la spiaggia andiamo a vedere magari un campeggio ancora vedete qua ci sono i prezzi quindi sicuramente questi sono campeggi privati a pagamento però visto che il campeggio libero e legale cioè io opterei proprio per andare in campeggio vediamo un'area picnic vedete ci sono anche le aree picnic se segnate come aree picnic magari un po più attrezzate vedete però avete visto anche i posti in mezzo alla natura dove c'è assegnato in mezzo alla natura sono molte volte sono attrezzati con panchine molte volte ogni tanto anche con servizi igienici qua siamo in svezia vedete che bello questo questo posto ecco magari andiamo provare un posto in norvegia ecco io penso che salirò dalla dalla svezia e se il tempo me lo consente cioè il tempo a disposizione me lo consente perché avrò solo due settimane credo penso che tornerò dalla norvegia e farò tutti i fiordi farò magari un po di fiordi vedete qua che bel che bei posti dove potere campeggiare qua vicino al porto marino aveva fatto esempio questo vicino al laghetto qua c'è una panchina ad esempio non so comunque ci sono davvero tanta scelta come vedete ci sono anche dei campeggi che vedete qua che ci sono i prezzi quindi sono a pagamento però ci sono davvero tantissimi posti siamo gratuiti che sono stati già utilizzati da altri utenti ad esempio qua ecco la regola una regola per il campeggio libero è che bisogna stare a 150 metri dalle abitazioni però poi si può perché si può campeggiare quasi dappertutto vedete qua un posto con anche una bella vista ok ragazzi io direi che è tutto da questa applicazione ecco una cosa che devo dirvi da cellulare si può selezionare un posto ad esempio e far partire la navigazione tramite google maps quindi potete interagire anche attraverso google maps e andare verso la zona intanto che vi faccio vedere altri posti e rieccoci ragazzi spero che questa applicazione vi possa interessare ecco io non prendo una lira da questa da questa cosa che ho fatto è una applicazione che ho trovato e ho pensato che sia abbastanza utile per trovare dei posti dove poter piazzare la tenda visto che comunque sono già stati utilizzati da altri utenti che usano questa applicazione appunto comunque io volevo chiedere una cosa visto che ci sta avvicinando il black friday e si stanno avvicinando le feste natalizie avevo pensato di fare una serie di video su magari qualche prodotto amazon che possa interessare i motociclisti e che comunque magari sia in offerta speciale o cose del genere voi che ne pensate magari se vi interessa qualche prodotto da vedere da da seguire se c'è qualche offerta o meno scrivetemi qua sotto se vi interessa questa serie o meno cioè se non vi interessa non la faccio neanche comunque ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video e ciao ciao ciao